Le luminarie favolose, piattoforte delle prossime feste. Sì, devo dire che le luminarie favolose sono state veramente, saranno il piattoforte, ma non solo di Natale, ma ci accompagneranno per tutto l'anno. Io mi sono ispirata un po' a quelle che sono le luci d'artista che si fanno a Torino ogni anno, che è questa manifestazione dove vengono chiamati artisti di arte contemporanea per creare delle opere con le luminarie. E così, vedendo queste, mi è venuta l'idea di fare anche noi una piccola, un piccolo luce d'artista dove appunto ci saranno le luminarie favolose dedicate a Giacomo Leopardi. Quindi, lungo corso persiani, sarà snodato questi 15 strofe della poesia dell'infinito di Leopardi fino alla chiesa di San Michele. E questo è un omaggio che vogliamo fare a Leopardi, ma non finirà con il Natale appunto, perché ogni mese, adesso sarà poi calendarizzato, si accenderanno le luminarie favolose, che significa che quindi si creerà un evento e chi vorrà vedere l'infinito di Leopardi dovrà venire a Reganati. Grazie. Grazie. Grazie.